Nella piana di Gioia Tauro torna ad attualità il tema dei bovini vaganti, questa volta per sollecitare interventi e prevenire nuovi incidenti con mezzi e autovetture. Si è tenuto infatti nella serata di ieri un incontro presso la città metropolitana di Reggio Calabria, a cui hanno preso parte i rappresentanti provinciali del Circolo di Città Nova del Partito Democratico e i consiglieri delegati della città metropolitana, Ketty Belcastro, Fabio Scionti, Demetrio Marino, Riccardo Mauro e Salvatore Mafrici. La riunione è servita in particolare ad affrontare il problema relativo al mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione posto sull'arteria stradale provinciale 1, Città Nova-Tauria Nova. In quel tratto di strada infatti si susseguono da molti anni decini di incidenti, molti dei quali gravi provocati dalle cosiddette vacche sacre. In queste settimane la problematica era stata risollevata dai sindaci della piana, ad interessarsene anche la prefettura di Reggio Calabria, ma al momento non è arrivata nessuna soluzione definitiva. Il ripristino dell'illuminazione lungo la SP1 è solo un primo passo, ma non la soluzione del problema. Si acquista visibilità la notte, ma gli incidenti avvengono anche di giorno. Si tratta di un grave stato di cose che sta giustamente provocando crescente allarme e preoccupazione tra i cittadini, i quali si aspettano dagli organi preposti risposte tese a liberare il territorio da tali presenze. Nel caso specifico, i consiglieri metropolitani delegati hanno illustrato le iniziative già attivate per la risoluzione del problema del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione. In particolare, a seguito di un sopralluogo effettuato da parte dei tecnici, è stata accertata la natura del guasto dell'impianto, per il ripristino del quale è richiesta una spesa dell'importo di pari 24.000 euro. Tali somme, è stato affermato, sono state già reperite e saranno tempestivamente impegnate al fine di procedere al ripristino dell'impianto di illuminazione. A tale scopo, nei prossimi giorni di intesa con le amministrazioni comunali dei due comuni interessati Città Nova e Toria Nova, saranno compiute le ulteriori procedure condivise al fine di mettere a sistema il funzionamento dell'impianto, compresa la sua futura manutenzione.